salve buonasera a tutti benvenuti alla mostra della minerva qua a salerno come ogni anno si rinnova la questa grandissima manifestazione e io sto qua con lo zafferano di gaiano vi presento il mio send se si può avvicinare vediamo dai fiori allo zafferano le nocciole tostate allo zafferano agli stimi di zafferano liquore tutto lo zafferano in effetti quindi gaiano è presente al salerno come ogni anno ciao 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 ciao